Presentiamo la seconda edizione del nostro congresso, Novità in Otorino, dopo la prima edizione dell'anno scorso che ha avuto un buon successo grazie al suo format. Anche quest'anno parleremo delle principali novità in ambito di rinologia, otologia, patologia neoplastica e ci saranno dei focus un po' particolari come quello dell'Otosub e quello della medicina legale. Ritengo che l'aggiornamento in medicina sia fondamentale soprattutto alla luce dei cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale ai nuovi software alle nuove metodiche chirurgiche e farmaci. Per cui speriamo di dare un focus sulle varie novità e che sia interessante per tutti.